Proprio ieri mi è capitato di leggere un libro bellissimo di Seth Godin, This is Marketing, che ho preso direttamente dall'app 4books, che adesso ve la faccio vedere, 4books di Marco Montemagno. È un'app davvero molto utile che vi consiglio per chi è appassionato di marketing, per chi magari non ha molto tempo di leggere libri troppo lunghi. Con 4books hai la possibilità di fare un abbonamento mensile o annuale dove puoi leggere libri relativi al settore del marketing e non solo. Diciamo un po' tutto quello che riguarda la pubblicità, quello che riguarda il mondo del business, quello che riguarda il mondo dei big money. In questo libro di This is Marketing, che tra l'altro ha anche comprato e a breve mi arriverà, si parla di una differenza molto importante che molto spesso confondiamo, che è quello di fare marketing e quello di fare la pubblicità. Sono due cose totalmente distinte e separate. Fare pubblicità non è altro che una semplice tecnica di presentare il proprio prodotto a più persone possibili. Questo è stato sempre l'idea di fare pubblicità, quello che un po' hanno fatto le tv, le radio per tantissimi anni, anche perché sono nate principalmente con lo scopo di diffondere la pubblicità in un determinato modo. Il marketing è il processo di trovare le proprie persone, la propria nicchia, per le quali il nostro prodotto può fare qualcosa di grande. Questa è la prima differenza sostanziale che fa Seth Godin all'interno del suo libro. Successivamente che cosa fa? Divide le fasi del marketing in cinque parti. La prima parte fa capire che comunque è importante creare un prodotto che abbia una storia valida da poter raccontare ai nostri clienti, che possa ritornare realmente utile al cliente che andiamo a raccontare questo determinato prodotto. La seconda fase è quella di disegnare e progettare un prodotto per un numero di persone ristretto, almeno alla parte iniziale. C'è una nicchia ristretta che si può subito andare a colpire. Poi successivamente magari cercare di allargare questo prodotto mano a mano. Allargarlo tramite la fase numero tre, che è vero il passaparola. Cioè io cliente che ho soffrito di questo prodotto e mi sono reso conto che è un prodotto che mi ha cambiato totalmente la vita, coinvolgo altre persone affinché entrino all'interno di questa nicchia. E come facciamo questo passaparola? Con la fase numero quattro, che è quello di raccontare una storia a queste persone, che si sposi con i sogni e i desideri delle persone che hanno bisogno di questo determinato prodotto. Quindi automaticamente andare a creare un legame che va oltre la vendita del semplice prodotto, ma instaurare proprio un rapporto con l'acquirente. E la fase numero cinque, che è la fase più importante, è la continuità. E questo è un elemento fondamentale se vogliamo farli sentire parte integrante del nostro progetto. Successivamente Gotin, all'interno del libro, inizia a fare un'analisi del prodotto. Molto spesso ci applichiamo a pensare il design del prodotto. Ma prima di arrivare a quello c'è una domanda fondamentale da porsi, ovvero capire realmente il prodotto se è utile o meno al cliente. Se il prodotto che noi vogliamo andare a proporre può cambiare realmente qualcosa in lui. Al cliente non interessa di acquistare il prodotto, ma che cosa quel prodotto può fare per lui? Come ho scritto nel titolo, le persone non vogliono acquistare la punta del trapano, ma le persone vogliono il buco nel muro. Poi se andiamo ancora ad analizzare più nel dettaglio, capiamo che le persone vogliono una mensola in realtà già montata, vogliono la soddisfazione di una casa sistemata, vogliono l'appagamento di una moglie felice per il lavoro che è stato fatto. Queste sono le conseguenze dell'acquisto di un trapano o di una punta di un trapano. Così deve essere il prodotto che noi dobbiamo andare a proporre, capire cosa realmente può dare questo prodotto ad una persona. Un'ultima analisi che mi ha davvero molto colpito all'interno del libro, ma ovviamente poi lui successivamente parla di tante altre cose, tipo come far arrivare il prodotto al consumatore, come creare una storia efficace per il consumatore. Quindi sono dei consigli davvero molto utili. Lui ci fa capire che ogni cliente è diverso da un altro. Non dobbiamo mai pensare a ciò che piace a noi, quindi può piacere automaticamente a tutti. Quindi il nostro modo di percepire le cose è diverso da persona in persona. E questo ci fa capire appunto che ognuno di noi ha bisogno, desidera sempre cose diverse, ha bisogno di esigenze totalmente diverse. Ma anche se andiamo controcorrente, comunque cerchiamo sempre una nicchia per identificarci. Questa è la differenza sostanziale tra fare marketing e fare pubblicità. Non esporre semplicemente il prodotto a più persone possibili, ma analizzare attentamente il prodotto, cercare di capire quale messaggio si vuole mandare, cercare di capire qual è l'esigenza principale del cliente, ma soprattutto cercare di capire come mi può cambiare la vita quel determinato prodotto. Grazie a tutti.